La prevenzione è la medicina più efficace. L'associazione Capire per Prevenire si occupa di tutelare e promuovere la salute e il benessere di tutti noi. Se volete essere informati sulle nostre iniziative non dovete fare altro che entrare a far parte della nostra comunità. È molto semplice, mandate la vostra mail e vi contatteremo. E ricordate la prevenzione è la medicina più efficace. www.capireperprevenire.com Infochiocciola.capireperprevenire.com Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati al nostro appuntamento del martedì. Oggi è una giornata particolare, avevamo un argomento da dover trattare, in particolare le ernie umbilicali, ma abbiamo proprio ritenuto, io con i miei collaboratori, ve li faccio vedere, guardate, abbiamo messo proprio una telecamera in alto, è presente il dottor Bagali, il dottor Di Nardo, il dottor Merendoni, ci sono io, vedete come lavoriamo, lavoriamo in questo piccolo studiolo che abbiamo recuperato, diciamo realizzato in una aula dove facciamo lezioni qui all'azienda Policlinico Umberto Primo e devo ringraziare i miei ragazzi che come tutti i medici, tutti gli infermieri, i caposala, tutte le persone che lavorano al Policlinico questa mattina sono venuti tutti a lavorare perché noi siamo al lavoro e è un impegno che noi abbiamo, è un dovere perché l'azienda comunque ci ha detto che noi dobbiamo essere presenti e ci ha proprio invitato ad essere sempre presenti, ci mancherebbe altro, non siamo qua certo perché ce lo dice l'azienda, siamo qua perché facciamo un lavoro, un mestiere che amiamo e andiamo avanti e con tutte le precauzioni. Allora oggi di che cosa voglio parlare? Io stamattina ho fatto una diretta venendo a lavorare qui sulla pagina di Facebook di Capire per Prevenire dicendo che oggi avrei cercato di avere con voi un colloquio diretto. Potete innanzitutto se ne avete voglia e a noi fa piacere condividere immediatamente questo video per cui in questo modo condividendo il video con i vostri diciamo amici noi possiamo dare più spazio agli altri, possiamo far arrivare questa informazione a più persone perché parliamo di prevenzione, parliamo di che cosa dobbiamo fare tutti perché siamo tutti inclusi in questo, cosa dobbiamo fare in questi giorni per scongiurare il diffondersi di questo virus maledettamente contagioso che ha colpito l'umanità intera perché non è un problema italiano, è un problema di tutto il mondo, di tutti quanti, avete visto che sta arrivando anche in Francia, in Germania, in Spagna, in nazioni che fino a ieri credevano di essere esentati così come in America da questa infezione, così non è perché purtroppo è un virus altamente contagioso che basta una persona, bastano due persone che possono comunque dar via, dalla via all'inizio a questo contagio. Allora io ho fatto venire il dottor Merendoni che è qui dietro di me a distanza diciamo di sicurezza tra virgolette anche se noi lavoriamo insieme tutto il giorno, usiamo le mascherine, io le abbiamo tolte, io e Alessio, lo chiamo Alessio perché così è il suo nome di battesimo, le abbiamo tolte per una questione anche di far vedere le nostre labbra, la nostra voce perché sennò diventa meno meno comprensibile quello che noi vogliamo fare. Allora innanzitutto volevamo spiegarvi che cos'è un virus, il virus è un qualcosa che è ben diverso dal batterio perché molte domande che ci sono arrivate sono ma non bastano gli antibiotici per riuscire a salvarci e a guarire da questi virus? Ecco no, l'antibiotico non ha nessuna efficacia sul virus, anzi vi dirò di più assumere degli antibiotici durante una infezione virale purtroppo non solo è controproducente ma è una cosa che dà la possibilità al virus di attecchire ancora meglio perché stabiliamolo purtroppo una volta per tutte perché è pericoloso la situazione in cui siamo, il virus amici miei purtroppo non ha una terapia, non abbiamo terapie in medicina che possano combattere i virus, abbiamo degli antivirali, l'antivirale in questo particolare sembrerebbe che dobbiamo aspettarcelo non prima di un anno e allora dici ma come possiamo noi difenderci dal virus come ci siamo sempre difesi così come arriva una feleb influenzale virale e la vinciamo perché la vinciamo anche in questo caso noi la vinciamo e la vinciamo cercando di mantenere la nostra immunità perché è quello che ci dà la maggiore possibilità di guarigione cercando di mantenere la nostra immunità al livello più alto possibile e questo è possibile esclusivamente mantenendo il nostro organismo, tutto il nostro organismo in uno stato assoluto di benessere per cui tutti i motivi in cui vi è un abbassamento della nostra immunità possono dare adito, apertura, aprire una porta all'ingresso di questo virus. Allora in modo molto elementare che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo stare bene dal punto di vista dell'alimentazione per cui mangiare, mangiare bene, mangiare cose sane. Poi non bisogna stancarsi, non bisogna stressarsi, bisogna stare in una situazione comunque di riposo, di tranquillità. La tranquillità è sotto tutti i punti di vista, tranquillità fisica, tranquillità psichica perché anche quella interferisce sicuramente per cui in uno stato di tranquillità. E adesso andremo, a parte questo piccolo cappello che ho fatto, a vedere punto per punto quelle che sono le indicazioni che ci ha dato l'Istituto Superiore di Sanità. Angelo è già pronto? Allora siccome c'è con me Alessio, Alessio legge una voce per l'alto, una per ognuna e vediamo di rispondere ai vari comportamenti che dobbiamo seguire. E li spiegheremo perché, perché la gente ancora non l'ha capito. Lavati spesso le mani? Allora perché bisogna lavarsi spesso le mani? Perché in questo virus, il coronavirus, in particolare, è un virus che si propaga nell'aria con le goccioline che non si vedono ma che esistono quando noi facciamo un colpo di tosse o uno starnuto. In questi casi partono delle piccole goccioline. In quelle goccioline, siccome è un virus che alberga all'interno del sistema respiratorio, col colpo di tosse, con lo starnuto, questo virus esce, uscendo e va a depositarsi su tutte le superfici che in quel momento sono state vicine a quel paziente, a quella persona, che ipotizziamo sia positivo al coronavirus. Che cosa succede? Che non è ben stabilito, non è sicuro quanto questo virus nell'aria riesca a sopravvivere. È sicuramente non un tempo limitatissimo, ma non è anche un tempo enorme per cui si calcola che possano essere anche ore in cui questo virus riesce a sopravvivere all'aria sulla superficie. Se noi con le mani tocchiamo la superficie dove è stato magari in una persona infetta. E da qui capiamo anche l'importanza di non andare nelle zone ad altissima densità di popolazione, dove possono andarsi a depositare su tutto ciò che tocchiamo i virus, che cosa succede? Che toccando con le mani questa superficie e portandole sul viso, sulla bocca, sugli occhi, questo virus entra nel nostro organismo e ci infetta. Per cui il lavarsi le mani spesso, soprattutto con soluzioni comunque disinfettanti, è un buonissimo momento di prevenzione per evitare che questo virus entri all'interno del nostro organismo. L'altra, la seconda domanda, e per cui che cosa succede? Ecco perché Valerio ci hanno, Alessio scusami, ci hanno invitato a non stringerci la mano, perché anche stringendoci la mano possiamo con le mani trasferirci il virus, così come lo abbracciarsi, il toccarsi. Ecco queste sono tutte cose che purtroppo in questo momento vanno evitate. Per cui attenzione a quelle che sono i veicoli più facili di contagiosità, per esempio le mani. La seconda, vediamo un po', se avete bisogno, sono già tante le persone che sono connesse a noi, Alessio tu vai avanti, sono già tante le persone che sono connesse a noi, io vado anch'io col mio telefonino un attimino a vedere quello che succede sulla pagina di Facebook, per prevenire, per vedere se fate delle domande, di rispondervi nel miglior modo possibile, nel modo più preciso che possiamo. Vai, qual è la seconda? Bisogna evitare il contratto stretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Assolutamente sì, perché questo, io non riesco ad andare, mannaggia, sulla pagina, adesso ricominciamo da capo, vorrei andare sulla pagina di Facebook, sì sì, la vedo anche qua, grazie, ma capisci che la vedo meglio da qua che da lontano. Sì, sono tante le persone che sono connesse con noi, scendi che li salutiamo, scendi pure che li salutiamo, c'è Tiziano, Alessandra, Federica, Pina, Trilli, Sergio, sono tantissime le persone che sono in questo momento connesse con noi, vi saluto tutti, se avete bisogno comunque di fare delle domande, assolutamente fatele perché cercheremo di rispondervi nel miglior modo possibile. Appena riesco andremo avanti con questa cosa. Allora, seconda voce che avevi detto, scusami, evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Beh, è chiaro, essendo un virus polmonare praticamente che interferisce, va ad inserirsi all'interno tra gli alveoli, va ad inserirsi in quella zona che è l'interstizio e crea, man mano che questo virus va a localizzarsi all'interno del tessuto polmonare, crea delle zone del polmone, ve lo spiego nel modo più semplice possibile, che non riescono più a respirare bene, cioè a scambiare l'ossigeno bene, per cui diventano zone del polmone che non ci aiutano più a respirare, per cui il momento più grave è quando purtroppo il polmone è interessato, il suo interstizio, da questo virus in modo massivo, in modo molto importante, per cui c'è una grande superficie del polmone che non riesce a respirare. Ecco che in quel caso, e qui vi spiegherete perché, è necessario intubare il malato, cioè far respirare il malato, aiutato dalle macchine che mandano dentro l'aria, l'ossigeno con forza e la ritirano fuori con forza, perché? Perché a quel punto noi non abbiamo più la capacità, soltanto con i nostri muscoli respiratori, a riuscire a ventilare. Allora solo in quei casi molto gravi, in cui c'è un interessamento polmonare massivo, è necessario essere assolutamente aiutati dalle macchine a respirare, ma questo succede in una percentuale bassissima, che si attesta oggi intorno a 3, 4, 5%, 6%, ancora i numeri precisi non li abbiamo, però la percentuale bassa, quella che richiede un'assistenza respiratoria della macchina, ma è certo che a questo non bisogna assolutamente arrivarci. Terza voce, Alessio. Non toccarsi con le mani il naso, la bocca e gli occhi. L'abbiamo già detto questo, l'abbiamo assolutamente già detto, perché? Perché, ecco qui, adesso riesco a vedere le domande finalmente, l'ho già detto questo perché è il modo proprio più banale, più stupido per poter portare il virus in quelle zone dove non dobbiamo assolutamente portarlo. per cui le mani, le mani, attenzione, tenetele pulite, tenetele lontane e sicuramente cercate di evitare di andare nei luoghi affollati. Permettetemelo un secondo, quattro parole, veramente quattro parole soltanto come uomo e non come medico, come persona della strada, come uomo del popolo, come tutti voi. Io trovo che sia veramente la cosa più stupida, più cretina che si possa fare, quella di catapultarsi a fare la spesa per la grande dispensa che bisogna creare a casa perché siamo in procinto di andare in guerra. È una guerra, ma è una guerra che permette comunque di muoverci sicuramente, permette di comunque approvvigionare quelli che sono gli alimenti che ci servono, andare a fare la fila al supermercato, andare a trovarsi nello stesso luogo in tantissime persone. Abbiamo visto scene, le abbiamo viste tutte perché Facebook purtroppo ci fa vedere tutto a tutti. Persone in fila, calcate. Ecco, è la cosa più stupida. Avete idea di quante persone si saranno infettate ieri per questa presa di posizione? Allora, ci vuole il buonsenso. Il buonsenso è veramente in noi, deve essere in noi, deve vincere, deve essere il nostro modus vivendi in questo momento. Il buonsenso. Se avete una famiglia e dovete fare della spesa, che la persona più giovane, la più sana esca, vada a fare la spesa, assolutamente, perché non è vietato andare a fare la spesa al supermercato, una alla volta, non tutta la famiglia, la persona che magari sta meglio. Se in casa non c'è una persona che sta meglio, facciamoci aiutare da qualche amico, cerchiamo di utilizzare la testa, il cervello, andiamo a fare la spesa. Prima di rientrare a casa disinfettiamoci le mani magari con dei solventi, rientriamo in casa e soprattutto tuteliamo chi all'interno della nostra casa è più delicato, è più fragile, le persone anziane, le persone che si stanno sottoponendo a delle terapie in questo momento, terapie oncologiche, perché la nostra vita continua. Io con i miei ragazzi, ecco i miei ragazzi, stamattina abbiamo fatto il nostro girovisite dove abbiamo malati che abbiamo operato, anche di malattie molto importanti, gli ospedali, l'ospedale dove noi viviamo, dove noi lavoriamo, che è l'azienda Polichinico Umberto Primo, si sta adoperando, sta cercando di unire tutte le forze e liberare spazi per le eventuali persone che dovessero avere necessità di assistenza, per cui stiamo lavorando bene, per cui abbiate rispetto delle persone che stanno dentro casa, assolutamente, non dovete entrare nel panico, non dovete assolutamente fare cose senza senso, vedere immagini, eh Alessio, ieri di persone in fila a mezzanotte a fare le spese, a fare la spesa nei supermercati aperti 24 ore su 24, è veramente destabilizzante, è veramente capire quanto la gente è certe volte purtroppo nel panico e non riesce a ragionare e ad avere buon senso ed è questo quello che noi diciamo, io resto a casa, è un cartello che noi mettiamo perché è giusto quello che ci dice il governo, bisogna restare in questo momento a casa, le infezioni ci sono, sono tante, sono tante le persone infettate, facciamo in modo che queste persone non facciano aumentare le infezioni per cui rimaniamo a casa. Ora, adesso andremo con la procedura e adesso vedremo anche le altre voci, andiamo veloci Alessio, andiamo veloci. Coprirsi la bocca con la piega del gomito in caso di starnuti e tosse. Esatto, in caso di tosse certamente un fazzoletto o la piega del gomito, cioè cercare di non starnutire e di cercare di bloccare lo starnuto e non mandarlo il più lontano possibile. Prossima voce Ale. Come ha detto prima, prof, non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico. Nessun medico vi prescriverà in questo momento antibiotici perché sarebbe un errore, sarebbe andare ad abbassare l'immunità. In questo momento noi abbiamo bisogno dell'immunità alle stelle, abbiamo bisogno di stare bene e per stare bene dovete mettere in atto tutto quanto. Quante persone mi sono arrivate e mi hanno chiesto, credetemi, i nostri telefoni in questi giorni squillano in continuazione. Adesso non squillano perché li abbiamo bloccati. Squillano e arrivano le domande più disparate. Adesso qualcuno, magari Alessio, l'ha raccolta e vi risponderemo. Molti mi dicono ma posso andare a fare sport all'aperto? Ma è l'energia che in questo momento consumiamo nell'andare a correre, nell'andare all'aperto, dove probabilmente non c'è questo rischio enorme di contagio, sempre se sei solo, vai a correre da solo, sei all'aperto. Ma questa energia, queste calorie che hai, le vogliamo tenere dentro? Le vogliamo tenere come bagaglio di difesa per il nostro sistema immunitario? Se stiamo un attimino fermi, se rimaniamo a casa, se non usciamo, ci fa male? Leggiamo un bel libro, guardiamo un po' di tv, chiacchieriamo tra di noi. Per cui io resto a casa. Noi non possiamo, noi siamo purtroppo precettati, purtroppo lo facciamo perché è il nostro lavoro, è il nostro dovere, siamo precettati, siamo invitati ad andare a lavorare. Pensate che anche in caso di positività, in assenza di sintomi, siamo comunque invitati ad andare a lavorare perché è chiaro che il medico, l'infermiere, il caposala, l'agente sociosanitario, l'ex portantino, quello che voi chiamate e conoscevate come portantino, devono assolutamente andare a lavorare perché se si blocca la sanità, voi capite che guai enorme. Cos'altro c'è di interessante su quei comportamenti adesso? Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol. Assolutamente, l'abbiamo detto, pulite le superfici al lavoro, pulite le superfici non dentro casa, se dentro casa non ci sono persone positive, è inutile che state tutto il giorno a pulire con disinfettanti, andate nel lavoro dove è probabile possibile che ci sia stata un'infezione, cos'altro c'è? Aggiungerei però, non utilizzare prodotti disinfettanti spray perché possono provocare aerosol da superficie eventualmente contaminate. Esattamente, vedete anche il consiglio che vi dà il dottor Merendoni, assolutamente utile. Poi Angelo, io capisco che mi stai facendo vedere le domande, adesso vedrò di andare possibilmente a rispondere. Laura dice buongiorno professore, buongiorno a voi, Maria dice grazie, Gianna dice mio marito è un soggetto allergico, in questo momento critico, spesso ha tosse, come faccio a distinguere visto che ci sono stati anche casi asintomatici? Beh, non basta la tosse, Gianna, ci serve anche la febbre, servono tanti altri sintomi che adesso andremo a vedere che devono farci insospettire che si sia infettati dal coronavirus. Non è soltanto la tosse o il raffreddore, ci deve essere febbre, ci deve essere spossatezza, ci deve essere dolori articolari, sono tanti sintomi, potrebbero esserci anche dei disturbi gastrointestinali, possono essere tanti, li passeremo in rassegna, Federica e altre sette persone che stanno guardando, Davide, queste sono persone che stanno guardando il video, Lorena, grazie professore di questa intensa spiegazione, Eliana e grazie, grazie a voi che siete qui, condividete il video, cercate di mandare questi video anche ai vostri amici, Federica Proto, noi che lavoriamo nella sanità, ce la stiamo mettendo tutta, ma abbiamo bisogno anche della vostra responsabilità e del vostro buonsenso. Brava Federica Proto, Federica Proto la conosco personalmente, è una farmacista e loro sono in estrema difficoltà, perché? Perché vi rivolgete in farmacia cercando dal farmacista comunque la soluzione dei problemi e il supporto medico, il farmacista non ce la può fare, ci dobbiamo rivolgere al medico di base, il farmacista è lì per aiutarvi a scegliere in quel momento quello di cui avete bisogno, anche loro sono in prima linea, bravissimi tutti i farmacisti, si possono assumere integratori per rafforzare il sistema immunitario? Ma guarda, cara Gianna, sempre tu, fa la domanda, io ho un po' di vitamina C in più, la sto prendendo, spremute d'arancia le sto prendendo, per cui qualche integratore, qualche vitamina sicuramente ci può essere utile, così come ho detto prima, la cosa più importante, no Alessio, è star bene fisicamente, non consumare energie se non è necessario e soprattutto cercare di stare bene anche con la testa, non entrare in ansia, non entrare in angoscia, perché è il modo più sbagliato per atteggiarsi a contrastare questa infezione virale, è altrimenti contagiosa, però vi voglio dire che è una infezione che comunque non crea dei problemi enormi, in una piccolissima percentuale di casi può essere veramente pericolosa e in una certa cerchia di persone, cioè nelle persone debilitate, nelle persone che stanno bene e sono esattamente quelle le persone che noi dobbiamo aiutare, noi dobbiamo tutelare e non dobbiamo uscire per andare ad accaparrarci come dei veramente degli stupidi nei supermercati, la roba da mangiare perché tornando a casa ci portiamo il nemico dentro casa, è qualcosa che non deve assolutamente succedere, dovete stare a casa solo uscire in casi necessari. Alessio vai avanti. Utilizzare le mascherine, in particolare quelle chirurgiche, se si è sospetti di essere, solo se si è sospetti di essere malati, oppure di utilizzare quelle FPP3 in caso si assista a una persona malata. Andiamo avanti anche, scusami, vuoi rispondere tu a questa, per adesso che stavo leggendo? Vuoi rispondere? No, alla domanda che avevi detto tu, al comportamento che hai letto adesso. Esattamente, quindi questa mascherina, quella chirurgica, deve essere utilizzata nel caso in cui si sospetti di essere malato, deve essere data a chi è malato, chi è risultato positivo al coronavirus. E allora loro si domanderanno, i nostri amici, caro Alessio, per fuori, torna di là, le domande le vedo qui a Angelo perché se no non capisco, perché stiamo con le mascherine? Perché la direzione sanitaria giustamente ce le ha imposte, io fino a ieri non l'ho usata, oggi l'ho usata anche poco oggi perché io non sono, per adesso fortunatamente non sono ancora infetto, sto bene, però abbiamo a che fare con malati defedati, con malati che comunque potremmo arrecare un danno. Nel dubbio, perché siamo indubbiamente la categoria più esposta, nel dubbio la dobbiamo usare la mascherina e per cui, solo per cui in questo caso, noi la usiamo, così come chi dovesse risultare positivo e fosse invitata a rimanere a casa, perché non è detto che se uno è positivo deve andare e si deve ricoverare, se uno è positivo e non ha sintomi o ha dei blandi sintomi, deve rimanere a casa e a casa deve rimanere adottando tutte le precauzioni per cercare di non infettare chi è dentro casa, sicuramente la mascherina, sicuramente dovrà lavarsi le mani, magari utilizzare dei guanti gli altri, cioè adottare dei sistemi igienici che sono alla base della prevenzione dell'infezione da questo virus. Ci saranno altre voci che dovevamo vedere? Sì, i prodotti provenienti dalla Cina o comunque... Va bene, questo lo sapevamo assolutamente Alessio, i prodotti che vengono dalla Cina non hanno nulla a che vedere con l'infezione, assolutamente. Poi? E poi bisogna contattare il numero 1500 esclusivamente in caso di sintomi e esclusivamente se si è venuto in contatto con persone positive al coronavirus o se si proviene da zone, diciamo, protette per quanto riguarda l'infezione da coronavirus dove gira localmente. Bene, allora adesso Angelo prepara la diapositiva con tutti i numeri regionali perché siccome abbiamo parlato del 1500 adesso facciamo vedere tutti i numeri telefonici, i numeri verdi che sono attivi per rispondere alle vostre esigenze, alle nostre esigenze perché noi siamo nella stessa medesima condizione. Allora Narita ci fa i complimenti, Faber, Dema, che ha subito l'intervento di nefrettomia totale, nefrettomia totale probabilmente in dialisi, non ha esposto a normalmente come le altre persone, l'unico problema è nefrettomia totale, non è un trapiantato per cui non è un immunodepresso da quello che capisco io, fa la dialisi, certamente è una persona fragile, è una di quelle che entra nelle persone fragili. Valerio ci sta guardando, Claudia Bordigoni, grazie a voi dottori, video interessantissimo, vi ringrazio, grazie, non ci interessa che ci dite grazie, che siamo bravi, ci interessa che lo condividete per dare la possibilità anche agli altri di seguirlo, grazie, bravo, concordo, fa piacere. Tutti i mercati e i supermarket svuotati, Lorena Silvestri ci dà questa bella notizia, era praticamente quasi una condiziosine qua nonne, purtroppo sei così. Se sei asintomatico, sempre Lorena ci chiede, è comunque meglio usarla, la mascherina, se ci sono altre persone o no. Ma se sei asintomatico e sei positivo? È la domanda che ti faccio, Lorena, magari mi rispondi, se sei asintomatico e non sei positivo perché non hai fatto il tampone e adesso magari, eh Alessio ci dici chi è che può fare il tampone, perché l'altra domanda che ci arriva sempre, ma io voglio fare il tampone, dove si può fare privatamente il tampone? Allora, se sei asintomatico non hai fatto il tampone, per cui non si sa se sei positivo. La mascherina non serve, la mascherina serve se sei stato un soggetto a rischio, cioè se sei stato, fai conto, insieme a una persona che è risultata positiva, sei stato con lui più di 15 minuti, sei stato a contatto con lui, se vieni da quelle zone altamente endemiche e hai dei sintomi, allora in quei casi la mascherina è consigliata assolutamente. Chi è che può fare il tampone, Alessio? Il tampone prof lo possono fare esclusivamente chi presenta sintomi caratteristici, quindi febbre, dispnea, tosse secca e in particolare una condizione sine qua non è che rispetti criteri epidemiologici, quindi anche chi o proviene da zone dove il virus circola localmente, a livello locale, come dalla Lombardia, oppure chi è entrato a contatto diretto con persone che sono risultate positive al virus. Solo in quel caso è ammessa l'esecuzione del tampone, che in realtà si tratta di due tamponi. Esattamente, avete sentito come Alessio ci ha spiegato bene i tamponi, per cui rispondiamo a Lorena che diceva, cioè se non lo sai perché non ti fanno il tampone, dice tu come fai a saperlo, ma il tampone, l'abbiamo detto, lo ridiciamo, non va fatto solo perché uno vuole togliersi la curiosità, oppure perché ha una particolare angoscia verso le malattie e via dicendo. Il tampone deve essere fatto solo seguendo determinati criteri e questi criteri li decide il medico, non lo decide la paura delle persone. Questo sia ben chiaro. I numeri regionali a cui vi dovete rivolgere, Angelo per favore, io direi di non leggerli uno per uno, li potete trovare sul sito del Ministero della Salute, basta che andate a Coronavirus, cliccate lì, vedete i numeri. Quelli importanti possono essere il 1500, che è proprio un numero dedicato a questo problema, dove rispondono di solito medici, sono dei medici che vi rispondono e vi danno le indicazioni migliori, il 112, il 118, il 118 soprattutto, solo in caso è veramente di urgenza. Vedete elencati qui tutti i numeri verdi per regione, ogni regione ha il suo numero verde, chiaramente non sono numeri sempre liberi perché le domande che arrivano, le richieste che arrivano sono tantissime. Sofia ci fa un'altra domanda, lascialo pure quello con i numeri, Angelo, non c'è problema, tanto non è importante che vedano me, in questo momento non servo veramente a nulla. Sofia Antonina Accardi chiede, buongiorno, vorrei sapere io, gli do il cuore anche un problema di allergia al naso, vorrei sapere se deve stare attento, grazie per la risposta. Abbiamo già risposto a una domanda analoga con un marito che aveva delle allergie, assolutamente non siete più esposte rispetto alla popolazione normale. È chiaro che se voi siete allergici e avete normalmente delle riniti, le riniti allergiche, è chiaro che in questo momento il naso che produce un pochino di muco non significa coronavirus, assolutamente, perché sono tanti altri sintomi che devono arrivare. Ritorniamo, c'era questo bellissimo cartello che Angelo hai, se lo vogliamo vedere, anche questo lo trovate sulla pagina del Ministero della Salute, nella quale ci sono alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus, per cui evitare loghi affollati. Ragazzi, fatemi sprecare, tra virgolette, che non è assalto uno spreco, toglimi pure il cartello Angelo. Il problema dei ragazzi, ognuno di noi ha dei figli, adolescenti, che scalpitano per uscire per andare in giro nelle piazze e cercare di trovare così gli amici, perché non andando a scuola non sanno che fare. È il momento che anche voi ragazzi capiate che non c'è nulla da scherzare, non c'è nulla da andare in giro. Abbiamo visto tutti, noi genitori, le foto di voi che la sera vi riunite nelle piazze, io parlo di Roma perché conosco Roma, ma questo è successo in tutta Italia, vi riunite per la cosiddetto aperitivo Homo Vida. È la cosa più stupida e cretina che potete fare, perché proprio in quelle circostanze che vi potete infettare, è proprio in quelle circostanze che, tornando a casa, potreste portare il nemico dentro casa e colpire magari nonno, nonna o qualcuno che dentro casa è delicato e fragile. Per cui ragazzi, voi siete responsabili, quanto tanto le persone adulte e gli anziani, della contagiosità di questo virus, dovete stare a casa. Vi do una brutta notizia e cercate di capirlo questo, perché è un'informazione che vi deve arrivare dritta nel cervello. La vostra riunione di un giorno fa, due giorni fa, nelle piazze, insieme agli altri amici, non si conclude con la giornata successiva, si conclude almeno con una settimana dopo, perché questo virus non dà segno di sé prima di diversi giorni. Per cui non è che voi uscite il giorno dopo, state bene e non è successo nulla. In realtà il virus potrebbe essere entrato e potrebbe avervi infettato e presentarsi magari fra dieci giorni, tra sette giorni, tra otto giorni. Per cui mi raccomando a voi, mi raccomando ai miei figli, come ai figli di tutti voi, di utilizzare in questo momento la testa. Mi rendo conto che è un sacrificio rimanere a casa, mi rendo conto che è un sacrificio annoiarsi, ma molto meglio che annoiarsi a casa, che invece avere delle grandi preoccupazioni fuori di casa. Era doveroso che io facessi questa disquisizione, questa modalità di espressione, perché essendo un genitore anch'io e avendo tanti genitori che mi hanno detto, ma come faccio io a dire a mio figlio di stare a casa? Beh, fateglielo capire che non si scherza, perché è un nemico subdolo, è un nemico soprattutto invisibile. perché se fosse visibile, noi sapremmo come fare, è invisibile, non lo vediamo. Detto questo, vuoi tu, Alessio, a questo punto spiegare magari qualche cosina sul virus e di che cos'è un virus, perché siamo, diciamo, intanto vado a vedere le altre domande che sono arrivate e vediamo di rispondere. Però, Alessio, ti avrò chiamato Valerio, vero? Sicuro, tanto, chissà quanti errori sto facendo oggi, ma è normale. Allora, Alessio, spiega la differenza del virus e spiega anche che del coronavirus, in modo semplice, esistono due sottotipi. In questo caso sì, noi i coronavirus sono endemici nel nostro paese, ci circolano da sempre, ma quelli che noi conosciamo causano solo lievi sintomi respiratori, delle alte vie aeree soprattutto. Di questo nuovo coronavirus, da cui il nome Covid-19, sta perché l'isolamento, appunto, è avvenuto nel 2019. In realtà si tratta del SARS-CoV-2, perché può causare una sintomatologia, appunto, simile a quella della SARS, che diede la SARS anni fa. Attualmente hanno visto che, da un punto di vista genetico, esistono due varianti. Una in grado di dare una sintomatologia più lieve, una di dare una sintomatologia più aggressiva, che poi sfocerà in quella che è la disponea con polmonite interstiziale, dove si renderà necessaria poi l'intubazione e la ventilazione invasiva. Mentre la forma più lieve, che probabilmente è quella che circola in Italia da novembre, dicembre, come dicono i dati epidemiologici, è quella che causa la sintomatologia più lieve, con febbricola, con leggera dossier secca. Infatti, fammi tornare, fammi tornare, anche questi li trovate sul Ministero della Salute. Io ve lo dico perché è vero che questa diretta su Facebook è utile, però potete anche andare a leggere quelli che sono i sintomi. Allora, come leggiamo qui dal Ministero della Salute, i sintomi più comuni sono la febbre. La febbre ci deve essere. Non deve essere per forza, purtroppo, una febbre altissima. Anche 37,5-38 può essere una febbre dovuta a un'infezione virale. Stanchezza e tosse secca. Diciamo che questi sono sintomi che ci sono quasi sempre. Alcuni pazienti possono presentare anche, come vi dicevo prima, dolori articolari, indolenzimento, spossatezza e congestione nasale, naso che cola, a parte le riniti allergiche come abbiamo visto, mal di cola, alcune volte anche diarrea, cioè disturbi gastrointestinali. Comunque, questi sintomi sono generalmente lievi e cominciano gradualmente, cioè gradualmente peggiorano. Per cui, quando avete questi sintomi, dovete fare una cosa molto semplice. Telefonate al vostro medico di base, gli dite quello che avete, quelli che sono i vostri disturbi e lui vi darà le indicazioni più opportune da adottare. Questo è importantissimo. Cos'altro ci rimane da dire? Ci sono altri amici che sono collegati con noi, sono tantissimi. Se avete bisogno di fare domande, fatele perché noi vi rispondiamo. Condividete questo video perché abbiamo dato delle indicazioni utili per noi gente comune, noi nel senso noi del mondo di Facebook e abbiamo detto quelle che sono le indicazioni igieniche più importanti. Ho parlato con i ragazzi per spiegare ai ragazzi quali sono le modalità e che non devono fare in questo momento. Dovete avere pazienza, dovete cercare di capire che è un momento importante. Saluto anche Cristina, Alessia, Gioama, Laura, tantissime altre persone che si sono in questo momento collegati con noi. Siate anche voi leader di opinione, siate anche voi tutti quelli che state in questo momento collegati con noi. Il veicolo per trasportare, per condividere, per trasferire questa informazione che mi auguro, ci auguriamo, possa essere utile se vediamo che questa diretta che abbiamo fatto oggi, che di solito noi facciamo il martedì alle 14, dovesse essere risultata utile e abbiamo da parte vostra anche incoraggiamenti a continuare per utilità e lo facciamo. Allora io ho chiesto anche ai miei ragazzi magari ogni giorno in questo periodo molto delicato alle 14 magari ci colleghiamo 5-10 minuti per darvi degli aggiornamenti e per spiegarvi un pochino meglio quello che succede. Detto questo io penso che possiamo, oggi abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato veramente tanto, il tempo è valato, sono quasi 40 minuti e Laura grazie, Laura Lorefici, grazie che condividi subito questo video perché è la modalità migliore che abbiamo tutti noi per poter contrastare la diffusione di questo virus che è un virus che è altamente contagioso e della quale non abbiamo ancora la terapia, questo lo sapete, non esiste la terapia mirata contro questo virus, esistono delle terapie che si stanno provando e che stanno dando anche degli ottimi risultati, degli antivirali che stanno dando ottimi risultati, sicuramente è una malattia che va curata praticamente alla demanda, cioè a seconda dei sintomi va curata con degli antipiretici, se la febbre si alza in modo importante, sicuramente non va curata con degli antibiotici ma soprattutto va curata con il nostro organismo, con il nostro bagaglio immunitario, con la nostra capacità di difenderci dagli attacchi del mondo esterno e questo è un attacco al quale possiamo sicuramente difenderci, sicuramente possiamo dare una risposta efficace, mi raccomando, stiamo a casa, io resto a casa, io adesso i miei ragazzi, i miei collaboratori, adesso finiamo il nostro turno in ospedale, vediamo che i nostri pazienti stanno tutti bene, che non ci sono problemi, torneremo anche noi, a Dio piacendo, torneremo alle nostre case e lì rimarremo a condividere questo momento di familiarità, questo momento importante per tutti noi in cui l'unione è fondamentale, per cui arrivederci a tutti, probabilmente Alessio domani se avremo tempo verso le 14 ci ricollegheremo e vediamo come va, se volete scrivete qui, noi leggiamo perché stiamo a casa e leggeremo quello che voi scrivete qui sulla pagina di Facebook di Capire per Prevenire, Angelo magari fai passare il video iniziale anche alla fine, e con questo grazie ad Alessio Merendoni, il dottor Merendoni, grazie al dottor Di Nardo che è lì dietro, lo vedete, è quella testa con la mascherina che adesso vi saluta, grazie al dottor Angelo Vagali che è quest'altra mano, fai vedere la testa Angelo, vieni un po' più avanti, eccolo Angelo perché è giusto farvi vedere, grazie a voi per quello che riusciremo a fare tutti insieme in modo assolutamente efficace, condividete questo video, arrivederci a tutti. La prevenzione è la medicina più efficace, l'associazione Capire per Prevenire si occupa di tutelare e promuovere la salute e il benessere di tutti noi, se volete essere informati sulle nostre iniziative non dovete fare altro che entrare a far parte della nostra comunità, è molto semplice, mandate la vostra mail e vi contatteremo e ricordate la prevenzione è la medicina più efficace www.capireperprevenire.com, infochiocciola. www.capireperprevenire.com